Musica Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata da Computer Museo Una puntata che sarà praticamente sulla preparazione di una chiavetta USB per questi emulatori floppy disk Questi emulatori allora innanzitutto ripetiamo un secondo a cosa servono Praticamente servono a sostituire un lettore floppy che oramai è andato datato e quindi non funziona neanche più bene E serve per sostituirlo attraverso una chiavetta USB Ovviamente la chiavetta USB per fare tutto questo bisogna formattarla in un certo modo Infatti più giga avete e più settori si possono creare Sia da 1,44 mega come ad esempio anche i vecchi floppy da 720 kilabyte Oppure dai floppy di 1,20 megabyte Ma andiamo per ordine Allora il software che dovremmo utilizzare è il software che viene di solito dato con gli emulatori di questo genere Si può anche trovare su internet il programma è USB floppy emulator 2.0 E praticamente è Batch Manager Tool Praticamente è un programma veramente ma veramente formidabile Prepara proprio a modo di agenda il vostro computer Allora innanzitutto andiamo a inserire la chiavetta che ci interessa Una volta che verrà selezionata come vedete la chiavetta in questione Risulterà in caso che l'avete già formattata Adesso proprio ve la faccio vedere come viene risultata Risulta come se avesse solo 713 kilabyte Quindi veramente come un vecchio floppy disk Questo è stato formattato apposta in modo che permetta l'utilizzo sui vecchi computer Però adesso vi faccio vedere proprio come si fa Allora innanzitutto una chiavetta quando viene data C'ha di solito un giga Questo programma permette proprio la elaborazione C'ha praticamente la trasformazione della chiavetta in vari settori Quindi come vedete fino a un tot mi pare di 100 Adesso vediamo Secondo veloce Sì fino a 99 Allora questi come si utilizzano? Come si riempiono? Non si riempiono buttando dentro i file nelle cartelle Ma si riempiono attraverso Adesso vi faccio vedere proprio velocemente Allora innanzitutto vi faccio vedere proprio come si prepara Partiamo dall'inizio Dobbiamo prima di tutto formatare la scheda La nostra chiavetta Facciamo format Ctrl F Qui uscirà la nostra chiavetta Che come vedete è questa qui Kingston Data Travel 2.0 USB Device Qui sotto possiamo notare che c'è scritto Select Floppy Format C'è 1,44 MB 1,2 MB E poi 720 KB Io ho impostato 720 KB Ma sinceramente potete anche addirittura impostare 1,44 KB per i nuovi computer 720 KB per i retro computers Però vabbè Possiamo rendere Boatable Praticamente possiamo rendere Avviabile il nostro Disco Attraverso il DOS 6.22 Oppure il 7.1 Il numero di floppy da creare Come vedete possiamo decidere Da 100 a 1 Possiamo decidere praticamente Le impostazioni E quanto formattarlo Poi Quick Format Se vogliamo fare la formattazione più veloce E poi facciamo Begin to Format Premiamo invio Tutti i dati verranno cancellati E adesso preparerà praticamente Il nostro floppy disk Praticamente creerà i nostri floppy disk A parte quello Continuiamo Aspettiamo che Venga caricato Attendiamo Scusate se magari sentite il rumore Di sottofondo di tastiera Oppure di Di acqua che va Ma c'ho dietro l'acquario E ogni tanto devo rispondere Su internet Ok allora Praticamente Adesso abbiamo impostato Proprio anche Il file eseguibile Però sinceramente Potevamo anche non metterlo A questo punto Il file è pronto Sinceramente Come vedete Sono già stati tutti impostati Come file bootable Praticamente Hanno già usato Il 19% Della memoria Questo lo fa In modo che così Permetta proprio L'utilizzo Di tutti Che siano avviabili All'avvio MS-DOS Adesso come si fa Praticamente Ad impostare La chiavetta Per inserire Un'immagine Allora Su questa chiavetta C'ho un'immagine Disco Di un file Non mi ricordo Se era Windows 1.0 Oppure avevo già Un'altra chiavetta Non mi ricordo Quindi devo vedere Sinceramente Si Ho il boot Dell'Amstrad Questo qui Allora Il boot Dell'Amstrad Adesso vi faccio vedere Proprio come funziona Allora Innanzitutto Dobbiamo rinominarlo In .img Ok A questo punto Andiamo a installare Sulla nostra chiavetta Il nostro file Quindi facciamo Write image Che troviamo in single Apriamo Andiamo in risorsa Il computer Andiamo ovviamente Nella nostra chiavetta E mettiamo Il boot Amstrad A questo punto Come vedete La nostra chiavetta Uscirà fuori Capacità 713 KB Cioè praticamente È stata impostata La nostra Chiavetta Quindi è pronta Sullo 000 Il boot Dell'Amstrad Che è di 713 KB Se noi andiamo A vedere inoltre Sul nostro Risorsa del computer Andiamo a vedere Floppy 0 Troveremo Questa cartella Che non ci mostra Niente Sinceramente Non c'è nulla Strano Però Attraverso il tasto destro E sul disco Che vogliamo vedere Possiamo aprire Il nostro disco E così Vedendo anche Quello che c'è dentro Alla chiavetta Una volta Avuto tutto questo Come vedete Ha tutti i file All'interno Della nostra chiavetta Siamo pronti Praticamente Per usufruire Del nostro File E quindi siamo pronti Praticamente Ad utilizzarlo Sull'Amstrad In questo caso Poi Ovviamente Una volta Fa tutto ciò Disconnettiamo La chiavetta Quindi andiamo A prendere Il nostro emulatore Facciamo finta Che è collegato Andiamo Ad inserire La nostra Chiavetta In questo modo Qui uscirà Un codice Di solito È 0000 Infatti Adesso abbiamo inserito Il sistema operativo Su 0000 Così è avviabile Subito E questi due tasti Permettono di selezionare La sezione Il numero De floppy Se voi premerete 1 Se avete messo Un game Sull'1 Poi sul 2 Un'applicazione Voi avrete Praticamente Subito accesso A questo tipo Di applicazioni Comunque Io vi ringrazio Per aver visualizzato Questo video E ci vediamo Alla prossima puntata Della computer museo Grazie a tutti